Bentornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Raul Bova si separa da Rossio Munoz e Morales, mi controllano il telefono La gelosia è estrema, il retroscena familiare spiazza i fan. Tutti i dettagli al riguardo Raul Bova e Rossio Munoz. Attore amatissimo da tutto il pubblico italiano, Raul Bova ha un grandissimo seguito anche oltre i confini nazionali Senza dubbio, ciò che interessa tantissimo di lui non è solo la sua carriera costellata di successo, bensì anche la sua vita privata Effettivamente, nelle ultime ore, si sta parlando molto del suo rapporto con la meravigliosa Rossio Munoz e Morales Ma di che cosa esattamente? Gli ammiratori stanno rimanendo completamente a bocca aperta Per quale motivo? Scopriamo i dettagli.Raul Bova, spunta il retroscena familiare che spiazza Amatissimi attori del mondo dello spettacolo nostrano, Raul Bova e Rossio Munoz e Morales formano una coppia di bellissimi invidiati da tutti Come ben noto, i due interpreti stanno insieme dal 2013 a seguito di essersi conosciuti sul set della commedia Immaturi, Il Viaggio Dalla relazione sono nate due bambine, corrispettivamente nel 2015 e nel 2018, Luna e Dalma Però, sembra che non tutto vada per il verso giusto, infatti, negli ultimi minuti, è spuntato un retroscena che sta spiazzando i fan del volto del capitano ultimo Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo effettivamente.Raul Bova in moto Raul Bova si separa da Rossio Munoz e Morales, mi controllano il telefono Amatissimi personaggi del mondo dello spettacolo italiano ed internazionale, Raul Bova e la sua compagna di vita Rossio Munoz e Morales sono continuamente al centro delle chiacchiere mediatiche Proprio a tal proposito, le ultime indiscrezioni sul loro amore stanno facendo spaventare tutti i fan In effetti, durante un'importante intervista nel salotto di Merissimo dalla bella Silvia Toffanin, l'attore ha fatto il punto della situazione sulla sua famiglia e sulla sua love story con l'incantevole showgirl spagnola Cioè? Andiamo per gradi.Raul Bova ospite a Merissimo punto Da ciò che si apprende, Raul ha fatto la sua apparizione nel programma pomeridiano del sabato di Canale 5 il 14 maggio 2022 Nel corso della puntata, Bova ha presentato, innanzitutto, la fiction di sei episodi della rete ammiraglia di Mediaset che lo vedrà protagonista insieme alla sua dolce meta Rossio, Giustizia per tutti A seguito di diverse sorprese, come i videomessaggi dei figli grandi Alessandro Leone e Francesco, l'uomo ha svelato un retroscena del tutto privato Raccontando esso, l'attore romano ha parlato delle sue figlie più piccole e di alcune loro abilità Cioè? Raul Bova a Verissimo punto Raul ha spiegato che, quando è lontano per un po' dalla Mugnoz Morales, e quindi costretto a separarsi da lei per lavoro, le sue bimbe gli controllano il cellulare a causa della loro gelosia Scherzando, la Toffannina ha esclamato che Luna e Dalma sono state istruite dalla mamma Queste le parole dell'interprete Mi chiedono sempre dove sono stato, con chi sono stato, controllano il mio telefono È una loro dote innata. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao